Benvenuti in questa settima e ultima lezione del videocorso sul diritto internazionale privato in cui continueremo ad affrontare l'analisi degli istituti processuali che presentano elementi di internazionalità. Ora rispetto alla disciplina processuale il principio è chiaro, ossia tutti gli istituti processuali vengono regolati ai sensi dell'articolo 12 della legge 218 1995 dalla legge in cui si svolge il processo, dalla legge allo Stato in cui si svolge il processo. Infatti l'articolo 12 afferma che il processo che si svolge in Italia viene regolato dalla legge italiana, ciò vale anche per i presupposti del processo quindi la capacità processuale, la legittimazione o la competenza. È ovvio che considerati gli elementi di estraneità che confluiscono in questo processo è possibile che la disciplina italiana trovi degli aggiustamenti o comunque degli adeguamenti proprio per il carattere internazionale di questa disciplina. Ad esempio, lo vedremo successivamente, si pensi all'acquisizione della prova mediante una rogatoria, quindi una prova da assumere all'estero. Inoltre il principio di cui all'articolo 12 della legge 218 1995 impedisce al soggetto straniero che è parte del processo in Italia di poter invocare dei provvedimenti che siano diversi da quelli tipici italiani. Quindi nel nostro processo italiano, seppur vi sia una parte straniera, questo non potrà sicuramente invocare l'acquisizione, dell'utilizzo di istituti che non sono previsti dai nostri codici. Come primo atto del processo sicuramente una menzione occorre effettuarla nei confronti delle notifiche. Le notifiche sono quegli strumenti che consentono di portare a conoscenza delle parti del processo degli atti processuali già realizzati. Possono profilarsi degli aspetti internazionali ogni qual volta vi sia una notifica da effettuare all'estero di una parte, ad esempio, straniera rispetto a un processo che si svolge in Italia. La disciplina è parecchio peculiare perché in questo caso si utilizzerà per la notifica da effettuare all'estero la legge dello Stato in cui questa notifica va eseguita. In realtà è il criterio della Lex Loci Executionis che rappresenta una sorta di specifica rispetto al criterio dell'ex fori perché in questo caso non si farà riferimento magari alla norma che regola il processo ma sarà comunque la norma dello Stato in cui dovrà eseguirsi quel singolo atto e quindi quella singola notifica. Vi è però il rischio che una notifica effettuata all'estero possa anche non ricomprendere e quindi possa magari mancare di alcuni requisiti previsti dalla disciplina nazionale. Per questo motivo il terzo comma dell'articolo 71 della legge 218 del 1995 prevede la possibilità per cui l'autorità straniera possa, in cui si svolge il processo, possa richiedere all'autorità italiana di svolgere, di eseguire quella notifica con delle determinate modalità, purché ovviamente non siano delle modalità incompatibili con i principi processuali italiani. Rispetto alla disciplina poi delle notifiche, una menzione apposita va fatta rispetto al regolamento 1393 del 2007 che in ambito comunitario individua una disciplina molto più snella e celere per l'esecuzione di queste notifiche, tanto è vero che prevede termini molto più celeri per evitare delle lungaggini, quindi termini più ristretti o un diritto forfettario unico per agevolare anche i costi di queste notifiche internazionali, ma anche delle semplificazioni in materia di lingue proprio per quanto riguarda gli atti da notificare. Rispetto agli aspetti processuali poi la dottrina si è a lungo dibattuta sulla disciplina da applicare ai mezzi di prova, perché un orientamento minoritario che va in realtà comunque scartato affermava che il mezzo di prova doveva essere regolato dalla legge che a sua volta regolava il rapporto sottostante, quindi se era una prova scritta che doveva dimostrare un rapporto contrattuale allora si sarebbe dovuto applicare la legge di quel singolo contratto. In realtà è una norma, è una teoria questa qua della dottrina minoritale che non va accolta perché il mezzo di prova è uno strumento processuale e come tale dovrà essere necessariamente regolato dalla Lex Fori. Rispetto poi alle vicende processuali il legislatore nazionale si è preoccupato di disciplinare una tra le questioni più importanti, ossia il riconoscimento e l'efficacia delle decisioni giudiziari degli atti stranieri. Ora ci si è chiesti il punto di partenza, la domanda fondamentale è stato qual rilievo dovrà conferire il giudice italiano rispetto agli atti giuridici stranieri che siano rilevanti per un suo giudizio interno. L'esempio potrebbe essere che si discuta sulla possibilità di ammettere il riconoscimento della paternità naturale effettuato però all'estero questo riconoscimento rispetto ad una controversia sulle obbligazioni alimentari che è in corso ed è instaurata in Italia. Ora il sistema attuale rispetto al riconoscimento delle sentenze straniere è parecchio innovato rispetto al passato in quanto precedentemente vi era un'apposita procedura di deliberazione prevista dall'articolo 796 del codice diritto. In realtà attualmente vi è una sorta di equazione che si vuole in qualche modo raggiungere tra i vari ordinamenti e come tale una sentenza straniera dovrà essere ritenuta valida ed efficace anche in altri paesi. Quindi in via di principio vige il principio secondo cui ai sensi dell'articolo 64 sarà un riconoscimento automatico delle sentenze civili stranieri purché vi siano determinati requisiti. Ora si badi, l'avevamo già spiegato ampiamente nella lezione numero 4 in tema di adozione, la disciplina del automatico riconoscimento delle sentenze straniere non si applica assolutamente per quanto riguarda i provvedimenti di adozione provenienti dall'estero, di adozione dei minori. Questo perché? Perché ci sarà un apposito procedimento di deliberazione del Tribunale per i minorenni competente in Italia che dovrà valutare se sussistano determinati requisiti e se ci sia appunto il rispetto di quegli interessi dell'adottato. Infatti appunto queste norme vengono menzionate come norme di applicazione necessarie perché vanno a tutelare lo status del minore adottato. Come dicevamo i requisiti per procedere a questo riconoscimento automatico sono elencati all'articolo 64 della legge 218 del 1995 e prevedono ovviamente che vi sia un provvedimento che è possibile qualificare come sentenza, che sia appunto un provvedimento da riconoscere qui in Italia, che il giudice che si sia pronunziato poteva conoscere la causa secondo i principi della giurisdizione italiana, che le parti si sono costituite regolarmente e l'eventuale contumacia di una delle parti sia stata dichiarata in maniera legittima secondo le ordinarie norme dell'ordinamento in cui si è svolto il processo, che la decisione non sia contraria ad una sentenza già passata in giudicato presente in Italia, che non vi sia un contemporaneo procedimento in Italia per il medesimo oggetto o tra le medesime parti e soprattutto l'ultimo limite è che gli effetti del riconoscimento di questa sentenza non siano contrari in Italia all'ordine pubblico, c'è quindi è sempre questo limite dell'ordine pubblico che funziona da argine rispetto all'ingresso di provvedimenti stranieri. Proprio con riferimento al limite dell'ordine pubblico in passato si è discusso sulla possibilità di riconoscere delle sentenze straniere che prevedevano i punitive damages, ossia il risarcimento punitivo che è una figura non prevista al nostro ordinamento giuridico che prevede l'arricchimento di una parte ingiustificata in quanto è una figura di risarcimento che non ha funzione tipicamente risarcitoria, bensì punitiva. Attualmente la giurisprudenza, nonostante il nostro ordinamento giuridico non preveda in maniera esplicita tale riconoscimento, ammette questa possibilità di un riconoscimento straniero, di un provvedimento che includa questo risarcimento punitivo. Tra l'altro ricordiamo che sono tutti dei requisiti previsti dall'articolo 64 che corrispondono per filo e per segno a quelli già previsti nella vecchia procedura di cui è l'articolo 797 del codice diritto, solo che attualmente e lo vedremo tra poco, questo procedimento di controllo è un controllo successivo ed eventuale. Il legislatore tra l'altro ha previsto agli articoli successivi, quindi all'articolo 65, anche dei procedimenti di riconoscimento ancora semplificati, soprattutto in materia di decisioni sulla filiazione, sui rapporti di famiglia o sulla capacità delle persone o sui diritti della personalità, godono di un riconoscimento semplificato perché si richiederà la sussistenza di requisiti ancora più generici e quindi una valutazione sicuramente molto più ristretta e meno rigorosa, poiché si chiederà semplicemente di valutare che siano emessi da un'autorità competente, che siano dei provvedimenti non contrai all'ordine pubblico e siano garantiti i diritti di difesa. Ancora di meno poi sono i requisiti per i provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui è l'articolo 66 della legge 218 del 1995. Tra l'altro la dottrina prevalente ritiene che l'articolo 64, 65 e 66 sono tra di loro in un rapporto di complementarietà, poiché qualora i requisiti del riconoscimento semplificato manchino, si chiederà con l'iter ordinario prevista all'articolo 64. Iter di cui è l'articolo 64 che come detto poc'anzi è un intervento del giudice che è successivo ed eventuale, a differenza di quello precedente previsto agli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile che era un controllo preventivo ed obbligatorio. Nello specifico ai sensi dell'articolo 67 della legge 218 del 1995, l'intervento del giudice dovrà avere luogo, del giudice italiano si intende, quando chiunque vi abbia interesse contesti la sussistenza dei requisiti di quell'articolo 64 o quando il soccombente non vada ad adempiere in maniera spontanea alla sentenza emessa dallo Stato straniero e quindi si renda necessaria un'esecuzione forzata. Ora, in sostanza si tratta di un vero e proprio giudizio di accertamento attribuito alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Uno degli aspetti che però non viene affrontato dagli articoli 64 e 65 della legge 218 e 95 riguarda il riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario, ossia ci si chiede come debba essere effettuato questo riconoscimento nel nostro ordinamento giudico italiano, delle sentenze canoniche che abbiano dichiarato la nullità di un matrimonio che sia stato celebrato con le forme del matrimonio concordatario. Ora, il punto di partenza è sempre l'articolo 2 della legge 218 e 95, già ampiamente spiegato nella prima lezione di questo videocorso sulle fonti del diritto e questo articolo 2, come sappiamo, sancisce la prevalenza e la priorità delle disposizioni provenienti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia fa parte. Per questo motivo bisognerà fare riferimento necessariamente all'accordo di Villa Madama del 1984 che a tutti gli effetti rappresenta un accordo internazionale tra due stati differenti, ossia l'Italia e lo Stato della Chiesa. Quindi questo accordo tra l'altro all'articolo 8 prevede espressamente che le sentenze che siano state emesse dal Tribunale Ecclesiastico sulla nullità di un matrimonio concordatario e che siano state poi munite del decreto di esecutività sono su domande delle parti dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenze della Corte di Appello competente. Quindi questo articolo 8 sembrerebbe ripristinare un vecchio controllo dei requisiti così come previsto dall'articolo 797. Ciò però comporterebbe un pregiudizio o comunque una disparità di trattamento, anzi un trattamento più sfavorevole rispetto al riconoscimento di queste tendenze provenienti dal Tribunale Ecclesiastici, contrariamente a quanto avviene per tutte le tendenze degli altri stati in cui avviene appunto via un riconoscimento automatico. Per questo motivo la giurisprudenza tende a compensare questo gap ammettendo che questo riconoscimento possa essere approvato solo nella maggior parte dei casi e pertanto il giudizio negativo di deliberazione di queste sentenze in unità dei matrimoni canonici sarà accertato solo rispetto a quelle sentenze che presentano delle incompatibilità assolute con l'ordine pubblico. Come menzionato tra l'altro poi nella precedente lezione, il regolamento principe che regola le funzioni processuali di diritto internazionale è sicuramente rappresentato dal regolamento 1215 del 2012 in cui si riconosce ancora la validità di questo principio del riconoscimento automatico, ma si va addirittura oltre perché una tra le novità più importanti che vengono introdotte dal regolamento 1215 del 2012 è quella che riguarda l'efficacia esecutiva delle decisioni. Infatti il regolamento introduce la generalizzata abolizione della necessità di un ex equatur tra i due stati in cui, tra lo stato in cui viene emessa una sentenza e lo stato in cui deve trovare esecuzione perché si consente di affermare che una decisione emessa in uno stato membro possa essere dichiarata allo stesso esecutiva anche negli altri stati stranieri. Ciò non toglie ovviamente che in specifici casi ci sia la possibilità, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento 1215 del 2012, di sollecitare un diniego del riconoscimento su iniziativa di una delle parti controinteressate e i motivi della richiesta di questo diniego possono essere svariati, ad esempio una contrarietà all'ordine pubblico o un mancato rispetto dei principi del contraddittorio o una violazione dei diritti della difesa. Un regolamento ricordiamo che si applica però solo alle azioni proposte a seguito del 2015 perché l'entrata in vigore di questo regolamento 1215 del 2012 è proprio nel 2015. Tra l'altro uno sviluppo verso uno spazio giuridico unico in Europa si ebbe nel 2004 già con il regolamento numero 805 che ha previsto l'istituzione di uno degli strumenti processuali più importanti nel nostro sistema giuridico comunitario, ossia il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, cioè lo scopo della normativa è quello di agevolare la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale anche sotto il profilo esecutivo. È un regolamento che si applica tra l'altro a tutte le decisioni giudiziarie, anche alle transazioni o agli atti pubblici, comunque a tutti quegli atti che consentono di accertare e riconoscere un credito, però un credito che sia di derivazione da un ambito civile o commerciale, quindi evita i crediti di matrice tributaria, amministrativa o familiare. La decisione in questo caso si sostanza in una attestazione di un titolo che viene qualificato come esecutivo in tutta Europa, cioè il creditore una volta che ha tra le mani questo titolo potrà farlo valere e quindi chiedere l'esecuzione in ogni singolo Stato membro, evitando così una doppia valutazione sulla esecutività anche nello Stato in cui si richiede l'esecuzione. È palese quindi come questo rappresenti veramente un passo importante verso questo spazio giuridico unico in Europa. Tra l'altro il regolamento, come detto appunto il regolamento 805 del 2004, prevede all'articolo 6 tutta una serie di requisiti affinché un titolo possa essere qualificato come esecutivo in Europa. Infatti è previsto all'articolo 6 che il credito non sia stato contestato al debitore, che la decisione sia esecutiva, ma soprattutto che il procedimento giudiziario che ha condotto alla decisione abbia rispettato i principi basilari del contraddittorio e dei diritti della difesa. Il giudice del Paese Decidente, quindi valutata la sussistenza di questi requisiti previsti dall'articolo 6 del regolamento 805 del 2004, potrà attestare il titolo come esecutivo in Europa. Un altro e ulteriore passo in avanti è rappresentato dal regolamento 1896 del 2006, che ha dato vita ad un vero e proprio procedimento di ingiunzione al pagamento europeo. Si tratta di una motivazione che ha spinto il legislatore europeo a introdurre uno strumento per poter in maniera celere e in maniera più fluida possibile, di poter ottenere il riconoscimento di un credito, qualora vi siano i nuovi controversi elementi di trasnazionalità. In questo caso ci potrebbe essere una procedura che viene effettuata tutta per iscritto, con termini di opposizione rispetto a questa richiesta di ingiunzione molto brevi, di circa 30 giorni alla domanda, in cui il giudice se non riceve questa opposizione potrà ovviamente dichiarare esecutiva la stessa ingiunzione, che sarà tale come detto esecutiva in tutti gli stati. Il regolamento tra l'altro presta particolare attenzione affinché il soggetto debitore potenziale opponente possa prestare quanto più possibile, possa esercitare i propri diritti di opposizione e per tale motivo allega già un modulo standard dell'opposizione alla stessa notifica dell'ingiunzione, in modo tale come detto da accelerare questo procedimento, renderlo tutto per iscritto e facilitare così la circolazione dei crediti e del loro riconoscimento all'interno dei confini degli stati membri. Ancora, se volessimo in qualche modo completare la valutazione degli strumenti di provenienza comunitaria in ambito processuale, possiamo sicuramente accennare e fare riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Anche qui il legislatore comunitario ha voluto in qualche modo accelerare e rendere più fluida la risoluzione delle controversie di modesta entità che abbiano un valore inferiore ai 5 mila Euro. In questo caso sono dei procedimenti semplificati che vengono realizzati tutti in forma scritta, dove l'udienza di trattazione è solo eventuale e può essere disposta dal giudice per una necessaria acquisizione delle prove e l'assistenza legale comunque è consentita ma non è obbligatoria. In questo caso ovviamente si agevola anche qui una decisione molto più celere che verrà resa esecutiva in tutti i confini dell'Europa e quindi in ogni singolo Stato membro. Infine, a conclusione, occorre effettuare una breve menzione rispetto ad una delle modalità con cui sempre più spesso nella modernità vengono risolte le controverse internazionali, ossia il ricorso a un arbitrato internazionale, perché sempre più spesso vi sono delle società o degli enti o delle persone giuridiche che si rivolgono a degli arbitri terzi e internazionali per poter risolvere delle controverse particolarmente complesse che riguardino materie specifiche, si pensi appunto ai traffici aerei o a questioni erenti alle compagnie aeree in cui vi sono elementi di palese trasnazionalità e per questo motivo si rivolgono a dei soggetti terzi arbitri internazionali per evitare in primis di rivolgersi a delle autorità giudiziarie nazionali che come tali possono essere parziali, in secundis possono godere di una maggiore celerità, di una maggiore conoscenza delle materie oggetto di controversia, ma anche di una maggiore discrezione perché sicuramente non sono esposti alla pubblicità del processo nazionale. Per questo motivo appunto vi è un'apposita convenzione che va a regolare proprio l'arbitrato internazionale che è la convenzione di Ginevra del 1961 in cui il criterio principale sicuramente proprio per la peculiarità della tipologia di rapporti che vengono in gioco, il criterio principale è rappresentato dall'autonomia e dalla volontà delle parti, anche perché manca in questo caso un Alex fori in quanto si tratta di un arbitro internazionale terzo e imparziale. Con questo argomento abbiamo concluso l'analisi della materia del diritto internazionale privato sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale, consapevole di aver fornito gli strumenti per poter affrontare con la maggiore preparazione possibile questa materia ai fini del superamento dell'esame orale dell'avvocatura. Vi ringrazio per l'attenzione, è stato un piacere collaborare con voi e alla prossima. Grazie a tutti.